Facciamo un saluto a Zeviola che incontriamo qua a Bondalu Calvario. Zeviò, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Com'è? Che si fa? Ma ci passa troppo di tempo così qua. Quando uno è venuto a fare di là. Ah. E devo sapere che da fare. Zeviò, quanti anni teniamo? Giusto 90. Auguroni. Grazie, pure a voi. Con salute. Ui, con rita presa a me. Eh eh, ma non riusciamo a stare a rete. Voglio, a limonire, mangiare roba da scatola. La prima base. Eh. Se vuoi vivere. Anche a beve, non troppo. Quello era il giusto, no? Due bicchieri di vino fanno meglio. Allo giorno? Eh beh. Faccio bene allo corlo il vino. Sì, sì. Rosso. Se ti viene il mal di cuore e non fare cura tuo, bevi, bevi del buon vino e così si passerà. Seviò, facciamo un saluto a tutti gli amici di Mondavuto. Tutti, pure quelli che stanno lontano, l'America, Lugano. Tu tieni qualche parente fuori, qualche nipote, qualche... Eh, mamma teniva una cucina in America, ma ora eh. Chissà. Eh beh. Eh beh, lo tempo passa. Poi i figli dicono che non si hanno imparato una parola in italiano. Eh, quando era stata la guerra, hanno stato a Caserta. Però a Mondavuto sono già venuti perché non si sapevo di dire una parola. Eh, imparato l'italiano? Anzi, lo montavate. Ah, proprio. Coppola pesca. Fai un saluto, se vi è in Montagutese, per il dialetto, vai. Canta un saluto a tutti in Montagutese. Avete capito o no?